Aspettavamo questo momento da tanto tempo, finalmente è arrivato e quindi anche sul lato italiano inizia la costruzione della Torino Unione. L'opera va a pieno ritmo, parte la tratta italiana a testimonianza di come ormai il processo è irreversibile. Questa è un'opera sostenibile con i fatti, non a chiacchiere. Non solo da tanti posti di lavoro nel realizzarla, ma è un'opera che darà davvero un futuro, una prospettiva a Torino e al Piemonte, alla città metropolitana di Torino. Le opere civili devono essere terminate tutte quante per consentire l'attivazione della linea nella fine del 2032. La galleria che andremo a scavare, la Maddalena 2 azzurra, ci sarà la fresa che scaverà, poi farà la curva verso sud e andrà a scavare fino a Susa all'uscita. La seconda fresa che scaverà in parallelo l'altra canna fino a Susa. Leggo un messaggio di Clement Bon, ministro delegato per i trasporti della Francia. Questa nuova linea ferroviaria è l'unica soluzione possibile per trasferire in modo massiccio della strada al ferrovia i traffic commerci che attraversano le Alpi franco-italiane. Chiedo ancora che i lavori procedano speditamente. Noi firmiamo un contratto con le nostre imprese, ma firmiamo anche un patto, un importantissimo sforzo di innovazione e anche di etica e di partecipazione. Stiamo costruendo insieme un pezzo di Europa. Grazie.